salve gente allora mi scuso un anticipo per per questa settimana che purtroppo non ho potuto fare video per problemi fisici anche perché ho avuto parecchio da fare no comunque vabbè problemi fisici nel senso che devo andare fino a aprile fino a aprile devo andare a fare delle lavorazioni sulla caviglia sinistra per riportare la cartilagine o comunque per diciamo aumentare la massa cartilaginea della caviglia per poter andare a fare qualche passeggiata che purtroppo in questo periodo non posso fare però ci sono delle belle novità tra cui il mezzo che siamo andati a prendere io e skrillex dei altri nel video precedente e no ho aperto un attimo il garage perché volevo far vedere che bordello che c'è qui dentro premesso che tutti i mezzi che si trovano nel mio garage barra officina sono miei o dei matti a skrillex dei voi altri quindi guardate un attimo che macello che mi sono ritrovato io adesso non so se si vede qualcosa perché non gliela faccio neanche ad accendere la luce là davanti ma praticamente c'è una scuderia qui dentro dei mezzi che mette paura ad è oggi finiremo di sistemare l'ovetto e mi sono arrivato anche il faro di dietro che manca mi è arrivato stamattina con un boxing eccolo qui questo è il faro posteriore che andrà a montare l'ovetto abbiamo sistemato tutta la trasmissione marmitta praticamente nuova c'è da finire da una pulita e poi verrà messo in vendita cavalletto laterale cromato e via discorrendo abbiamo messo a posto il cruscotto abbiamo messo a posto lo specchietto i fari luci frecce ma la marmitta è una cosa speciale è una cosa spettacolare quindi è un bianco perlato è anche difficile come verniciatura però alla fine è venuta abbastanza bene abbiamo messo a posto il cruscotto che qui non c'era nelle staff e non c'era un cacchio e quindi questo questo sarà il primo mezzo completato che uscirà fuori da qui dentro e niente per il resto è arrivato pure un sr sempre che abbiamo comprato abbiamo salvato dallo sfascia carrozze praticamente che lo deve ne butta via adesso in questi video nei prossimi video sistemeremo anche le sr il mezzo segreto era il runner che se gliela faccio una picciare luci ma ci credo poco ok siamo riusciti è stato in cesa il runner 50 iniezione che trasformeremo vedete iniezione che trasformeremo naturalmente al carburatori però purtroppo non sarà un lavoro che si potrà fare adesso perché ci vogliono devo dovrei trovare un altro mezzo per cambiare tutto completamente il motore cilindro il pianto elettrico e ci vuole un po però questo qui è il mezzo segreto che siamo andati a prendere naturalmente da rifà tutte le carri nature perché macello però è questo abbiamo già messo il ferro che se abbiamo pulito il telaio perché era completamente pieno di ruggine abbiamo dato una bella carteggiata una bella pulita e poi sarà verniciato anche il telaio di verniciato di nuovo e niente poi è arrivato questa mattina anche sono arrivati le frecce dello zip eccole qui quindi sarà completato anche lo zip di mifiola che adesso si è innamorata dell'irox mia quindi prenderà il mio irox venderemo anche lo zip poi è arrivato un altro pacco che non so cos'è ok perfetto questo qui è un contatore ore che verrà posizionato sull'usaberg sull'usaberg 550 per per le ore di giro questo praticamente se accende con le vibrazioni quindi una volta acceso il mezzo si accende in automatico anche questo cosino qui perché ogni 20 ore se sarebbe da fare un bel cambio dell'olio visto che adesso il mezzo è a posto c'è da fare pure questa cosa qui questo comunque non va attaccato all'impianto elettrico è un aggioggino a sé con una batteria che dura tre anni che è scritto qui dovrebbe essere a posto poi proveremo anche qui e quindi niente è un casino è un casino però sta diventando una bella scuderia dei mezzi anche se questo qui è quello di mattia questo qui l'abbiamo comprato insieme e ha fatto la targa a nome suo questo la sua il resto è tutto mio dell'officina comunque sarà da rifà la sella delle sr c'è sarà la fa una miriade dei lavori poi naturalmente li vedete attaccata su una vera una marmita di un pixel 125 la c'è un 28 con un collettore loro fa dei lavori a un pixel da un amico e niente vedete anche le lavorazioni del gruppo termico dr 175 apertura tra vasi luci di scarico quindi niente per il momento è tutto mi hanno regalato anche un casco usato un po sgraffiato però è buono e niente per il momento per questo video è tutto ah aspetta no non ve lo dico questa non ha fatto lo dimostrò altre volte quando quando arriverà lo vedrete la vedrete la vedrete dove arriva un mezzetto però stavolta con quattro ruote e niente guarda che macello oggi è un casino sarà stata fatica a bestia quindi un bel like iscrivetevi al canale al canale tenetevi aggiornati ci saranno dei bellissimi video ciao a tutti